Un laboratorio di idee che si ispira all'incrocio delle coordinate 42 e 15 proprio a Termoli per simboleggiare l'incontro di punti differenti che si uniscono rendendo unico e affascinante questo lembo di costa. Un progetto ambizioso, un gruppo di professionalità, persone che amano il territorio e sono pronte a fare rete per promuoverlo dopo il periodo di emergenza. Tutto nasce durante il Covid, il fatto che siamo rimasti soli, chiusi nelle case ci ha dato modo di ragionare su quello che siamo e soprattutto in questo caso specifico su dove viviamo. E quindi da lì e poi dalla provocazione, chiamiamola simpatica di Toti, che ha parlato della nostra costa è nata l'idea di dire ma ci siamo posti una domanda, siamo noi, cioè sono gli altri che non ci conoscono siamo noi che non ci promuoviamo adeguatamente e quindi da lì è nata l'idea perché no di fare uno spot. Il video intitolato semplice bellezza 6 a Termoli è stato finanziato con fondi privati e sarà distribuito sui canali social in altri possibili spazi multimediali. Lo spot recita è il momento di uscire fuori, uscire fuori dove? Andare a vivere questa città, andare a vivere l'arte, andare a vivere la cultura, andare a vivere delle situazioni che non conosciamo magari di Termoli e le scopriamo attraverso questo spot. a toccare la storia, la protagonista, la nostra icona che gira per il centro storico, che è la nostra protagonista a un certo punto ci abbandona e lascia spazio alle bellezze e sul finale ritorna e dice se la bellezza fosse ancora qui ad aspettarci. L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Termoli, dell'Università del Molise con i corsi di laurea in Scienze Turistiche e Management del Turismo e dei beni culturali dell'Associazione di Promozione Sociale, il Mosaico. Proviamo a raccontare questa Termoli diversa, semplice ma bella e quindi grazie anche al nostro regista siamo andati a trovare proprio gli angoli più sconosciuti, di una Termoli che piace, piace proprio perché si articola in attrattività diverse dal consueto. Cosa farci poi? Bene, questo è un regalo che come cittadini prima di tutto ci siamo sentiti di dare alla nostra comunità. La bellezza non è mai andata via, è rimasta qui ad aspettarvi. Semplice bellezza, sei a Termoli.